il centrocampo del Napoli va in signe, Chiellini, Kulibani, Rogga, agilissimo nello spazio stretto eccezionale giocata di Rogga e poi ribattuta la conclusione da fuori aria di Milik, Higuain, corto però il passaggio a Mangiukic, Kajehonna, Diamara Amsic, ci scansa in signe, sta per lanciare Amsic, Diamara, Strimic, fa recuperare i quadri